Se non ricordo male, Pietro Facciani, l'imputato, si era riservato di fare chiarazioni spontanee. Le vuole fare ora? Sì, certo. Vado, vado. Vuole accomodarsi qui? Ora. Avvocato, se preferisce farle di lì, non c'è nessuno. Vuole farle da qui? Preferisce stare lì o venire qua? Va bene, va bene. Come crede? Vuole stare qua? Vicino a noi? Vede sì. Allora vada qui. Si porta anche qui. Questo non è il figlio di Censu, di Corriest, di Guistano. E gli ha collegato per fare. Ce l'ha? Adesso abbiamo prodotto il tutto di lavoro. Ma tu c'è proprio? Sì, non ci sente tanto bene. Sì, sarà un voluto. Nessun problema. Allora, si metta comodo, ha bisogno degli occhiali. Si metta comodo. Ho fatto degli appunti, se no mi ricordo. Io le ricordo soltanto che naturalmente lei può dire quello che vuole, chiaramente, ma in relazione all'oggetto del processo, senza divagare. Detto questo, può dire quello che vuole. Signor Presidente, mi scusi, mi perdoni, siccome nel processo si è parlato anche della sua personalità, che è stato oggetto di varie udienze e dei precedenti, io credo che abbia diritto anche di parlare. D'abbiamo, avvocato. Grazie. Certamente. Ripeto, ha amplissima facoltà di parola. Grazie. Magari, ecco. No, certo. Cerchiamo di non esagerare. Se parla della luna, no. Può parlare tranquillamente di tutto ciò che concerne questo processo. Sono nato da una famiglia religiosa di fuori ontadini, ad Ampinana, il 7-1-1925. Da una famiglia povera, e si lavorava dalla mattina alla sera, il mio povero babbo mi ha fatto fare una zappina, su misura, andavo a scuola, e ritornavo da scuola, andava a aiutare a zappare, insomma, il mio povero babbo. E andava a zappare il mio povero babbo, insomma, noi non abbiamo avuto nessun partito, perché di politica non ci se ne intende, ma abbiamo sempre acclamato, praudito, cioè, chi comandava e compagnia bella. E il mio povero babbo mi diceva, vedi, poverini, noi siamo più poveri delle campane, perché? Noi a tavola si mangiava una ringa in quattro, e le campane ce n'era una un po' incrinata, e le suonavano, da ring dan da, da ring dan da, e allora diceva una ringa in tre, dice, vedi, la campana di una ringa in tre, e noi si mangia una ringa in quattro. E si è sempre lavorato, dalla mattina alla sera, e poi venne, andeva a scuola, io feci la terza elementare, per il fatto che non potessi proseguire gli studi, perché ti erano a pagamento. Poi venne il servizio militare, andetti militare, ai decimo ardi Avellino, centro addestramento recruti, e poi a Novara, e da Novara a Cesano di Roma, alla scuola di mitraglieri. Tornai da affari militari, il mio povero babbo gli aveva trovato un grande podere, e c'era tanto da lavorare. Allora, io cercai una ragazza, per pigliare, insomma, per sposarmi, per aiutare in casa, a miei fuori genitori, che c'era tanto da lavorare, e trovai una bella ragazza, si chiamava Miranda Bulli, insomma, gli era un anno e più che si era fidanzati, e arrivò il momento di sposarsi, ci si voleva bene, e dopo un mese mi dovevo sposare, era tutto preparato, insomma, per le nozze. Questa donna fu un brutto giorno, andai a trovarla, e la trovai in compagnia di un altro. E io ero geloso, gli volevo bene a questa donna, lei la manciò a dirmi, guarda, mi ha preso per forza, piccialo, piccialo, andai per tirargli i due pugni, io. E questo c'era un pezzo d'uomo più grosso di me, e mi agguento per il collo, mi stava strozzando, e io fruga, fruga, trovavo quel cortello in tasca, e tutti i montadini si portano per le piante, e ci dimenticano i maledetti cortelli, se non l'avevo o non era successo nulla. E da quella volta un po' non riportavo in tasca, più nemmeno un chiodo, io, l'ho maledetto tante volte, mi ebbe a difendere, se no morì io, si scontò la pena, e si tornò a casa, lei sposò un altro, e io sposavo un'altra, e si fece una famiglia. Questa donna, dopo un tornato, io non l'ho più rivista, la vede una volta all'onda, perché si era contadini, e si è andata a comprare un paio di bestie all'onda, e l'ha incontrata in Laia, ma non ha andato nemmeno a casa, perché il mediatore, ed è a furia, insomma, per comprare queste bestie, e si salutò più o meno, poi non l'ho più riveduta, quanto è vero c'è il nostro Signore Gesù Cristo. Io poi mi nacque queste bambine, la prima, la nacque con la mia moglie, poverina, gli abbandonati taglio cesareo, la nacque con il taglio cesareo, la mia moglie è stata ricoverata, un monte di tempo giù, che questo taglio cesareo gli ha provocato un'infezione, e l'ha stata ricoverata, una febbre in coma a tre o quattro giorni, e con questa febbre infezione gli somministrano un milione di antibiotici, e la se la cava in estremi, ma però è rimasta, poverina, se mi ferma di mente. Allora questa figliola la se va a ricoverare, insomma, perché il latte l'hanno digeria, l'hanno ci prese le gastri interite, insomma, e dopo gli ha comprato una mucca per allevarla con questa mucca. Dopo, in acqua e la seconda, prematura, di sei mesi, le va a mettere in maire, anche quella, si è fatta una vita, e ci stai a questo povere di radiciottetteri da lavorare, con il Cesare Costantino alla Badia Bovino, a sette chilometri da Vicchio. Dopo riportata a casa, la moglie e la figlia, e si tocca, la mia povera mamma buonanima, assista anche tra questo figlio Lucia e la mia moglie, perché era sempre inferma di mente, non sapeva più che la faceva, che la diceva, dare il latte alla bambina, gli toccava pensarci, la mia povera mamma buonanima. E allora, dopo, queste figlie, crescendo poi, lo sai, ma crescendo, queste figliole, le ho messi in collegio, le ho messi in collegio a pagamento, e pagavo 400 mila lire per dargli un'educazione e per dargli uno studio. e gli ho messo a pagamento, io lo volevo bene, più della mia vita, e gli ho messo in collegio a pagamento, poi le scappò a 12 anni, le trovò un ragazzo, la trovò questa qui, che gli mangiava tutti i sordi, se gli era messo nel libretto, e la prontolai, gli disse di non lo frequentare più, che era un vagabondo, poi era già fidanzato, gli aveva già la fidanzata, e si doveva sposare. E lei la continuò, mi rispose anche male, gli ho detto, tu scappaccioni, e lui è vero, lei era a servizio da un'avvocatessa a Firenze, l'era ritornata a casa per il fatto che non gli devano la paga giusta prevista dal sindacato, gli davano sempre la paga da apprendista, e gli era tre o quattro anni, era lì, tre anni o così, e allora la si lamentava, se ne approfittano, perché mi fanno lavorare dieci ore al giorno, mi fanno alzare alle sette la mattina, e la sera fino alle nove, e non mi danno nemmeno la paga giusta, e non c'è andato più, la riportavo a casa. Io lavoravo alle fattorie, prima che lavoravo, e poi nell'89 ebbe l'infarto, no, nel 90, no, nell'89, ebbe un infarto, fu ricoverato all'ospedale, e arriva giù in camera di animazione, perché ero più morto che vivo. Dopo un lungo periodo, ritornai a casa, comprai la casa a queste figliole, e si tornò a me licenziare, il padrone dove lavoravo, perché i rostelli, erano otto o nove anni, e fu lì che presi questo infarto, e avevo 22 vitelloni, nella stalla, e poi dovevo fare quattro ore in fattoria. In fattoria l'ha avuto a Michusi? Si lavorava... 70, no, 78. 28 novembre 78. Sì, allora che vorrei, ho fatto gli appunti, ma non ci vedo. Faccio per voi. Allora sì, e mi licenziai con questo padrone, andrei a avere questo infarto, e sui lavoro, e comprai la casa, con un lavoro uscita, mi dette, insomma, a mercatale, e l'antestai a queste bambine. Sicché, loro, andavano a lavorare a Firenze, da questa donna, mi ho detto, e questa poi ritornò, perché a casa, per il fatto, è un'idea alla giusta paga. E nell'attesa di un nuovo impiego di lavoro, girava il paese, con le sue amiche lì, e io andrei a lavorare, la mattina, fino alla sera. Ora, in questo frattempo, la trovò questo ragazzo, e gli mangiava tutti i sordi di libretto, appunto, come ho detto prima, e la buscò due scappaccioni. Lei la scappò, e ritornò da questa bucatessa, quando l'avevano, quando l'avevano messa a lavorare. C'è un'etica, io per il fatto, non gli danno la giusta paga, per il telefono, insomma, si è battito le parole, e lei la se ne è bevata, di morta a male, perché tenendole la giura, c'era un interesse, la sfruttava, gli dava nulla ai panni, a fare la denunzia. Allora, la portò a fare la denunzia, questa donna, e oltre a dir la verità, che la lei ha buscato, è vero, la mi rispose male, cercato di metterla sulla buona strada, e lei gli fece dire, che quando io ero ubrino, gli andava da di noia. Io anche bicchiere di vino, la sera lo bevevo, è giusto, perché io non andavo, né fuori, né al cinema, né a giocare a bari, nulla, stavo in casa, a vedere la televisione, con la mia moglie, e un qualche bicchiere di vino, perché il giorno si beve altro, e acqua, né ampi, e la sera un bicchiere di vino, insomma. E poi, andeva a letto, e questa qui dice, dice, ande, gli alombriagli davanti a noi, è una montatura questa, è tutta una farsità, perché quando ci fu il processo, che le portano a testimoniare, le si voleano ritirare, queste figliole, dicendo, che il babbo, è giusto, ci ha brontolato, ci ha picchiato, ma queste cose, ce le ha fatte dire, l'avvocatessa, il suo avvocato, l'ammoni, dice, guai, guai, se la decambia le parole, lei la va dentro, per farsi la testimonianza, ma le impauri, e loro le mantengono la tesi, ma, io, scontare la mia pena, va a scontare quattro anni qua, e queste figliole, io, gli ho fatto tutto, che il padre poteva fargli, le ho messo in collegio, e non possono studiare, gli ho imparato un'enciclopedia, 24 volumi, conoscere e sapere, con dischi per imparare le lingue, e tutto, e spesso un monte di altrini, le hanno ancora lì, nella mia biblioteca nobita, da aprire, poi, le ho messo a lavorare, tornò a casa, poi, gli compravo una macchina, per cucire una necchia automatica, e una donna, che pagavo per insegnargli, il mestiere, anche quella, le ho ancora a casa, la sua, nuova, niente, non hanno voluto imparare a nulla, e gli ha aperto un librettino, a conto corrente, a tutte e due, a ognuna, e si gli metteva qualche cosa, per uno, quando si pigliava la pensione, questa qui, la ho messo, poverina, la ho un'è, il cervello, il cervello esatto, insomma, non si può dire sano, perché, e a casa, la si era innamorata di prete, la voleva sposare di prete, poi, insomma, l'avete una batteria da cucina, costa più di 50 pezzi, e c'era un orologino di regalo, per pigliare quell'orologino, l'ha speso un milione e ducento mila lire, per pigliare tutta la roba, che poi, poverina, non se ne faceva nulla, ce n'era tanta della roba in casa, eh, dice, ma ho fatto un affare, sai, vedi, o mi hanno regalato un orologio, figuravo, stanno 10 mila lire, insomma, perché, perché poverina, non ragiona, allora io cercavo, la mia moglie, insomma, di potergli far capire la ragione, ma che vuole, allora, dopo questa qui, se gli era messo un po' di sordi, la disperperò tutti, per comprare tutte le cingiglie, e compagnia bella, perché il cervello non gli dice il vero, e andavamo, questo vannato di questo ragazzo, e le buscò, e compagnia bella, che vuole fare, io cercavo di mettere sulla buona strada, ma io gli ho voluto bene, e come maltrattare la famiglia, mi sento dire, c'è la mia moglie, poverina, che lei è rimasta, se mi ferma di mente, non sa ne chi la dice, ne chi la fa, ne quando l'è nata, non sa nulla, e io ho cercato, d'aiutarla in tutti i modi, gli portavo perfino i caffè a letto, facevi, ma sa, io la mattina, facevi il caffè, gliene portavo a letto, gli aiutavo a fare il bagno, dall'ugna dei piedi a capelli, gli facevano capelli, insomma, la pulizia, e gli aiutavo a fare da mangiare, per fargli risparmiare la fatica, di comprare la scopelettria, la lucidatrice, di comprare la macchina, la lavatrice per la mare, io cercavo di fare tutta la possibilità, per non gli fare la fatica, e lei, poverina, e la Sara Bianca, queste figliole, e la bocciava, con me, gli figliai nervoso, perché l'è nervosa, e io cercavo di chiamarla, sta zitta, lì c'è invicinato, tutta gentaccia, che a rogne, e vanno a pettegolare, e mi fece anche amare, diverse volte, i paccianileti, e i paccianileti, io sono stato a lavorare, dalla mattina alla sera, ho tutti i libretti di lavoro, dai 64 all'87, quando usci di carcere, il maresciallo, che venne qui a testimoniare, di me il paese, chiamò i fratelli della parte civile, e ci fece fare, ci fece dalla mano, io gli chiedi perdono, e i fratelli dice, noi non portiamo nessun rancore, perché dice, un po' ci hanno colpa tutte e tre, mi fuori fratello, dove sta con la sua moglie, lei non doveva tradirlo, quest'uomo, perché si doveva sposare, e lui gli doveva lasciar perdere, e ci si dette la mano, senza rancore, poi mi prese, mi disse, vieni a me, ti trovi il lavoro, si andò in cazzo l'ificio, a marmugili, a vicchio, e mi impiegò, al cazzo l'ificio, a lavorare, al cazzo l'ificio, io, mi domandò, dice, cosa sai, di mestiere di cazzo l'ario, ma noi montadini, dico, e ci saranno già un po' su tutto, e so cuscili e scarpe, so risolalle, e cosa, e già qualcosa, mi disse, ti metto alla trancia, mi hai messo alla trancia, a fare le solette, poi dalla trancia, e mi detti, il lavoro è più difficile, di cazzo l'ario, alla fresa, a fresare le scarpe, e ne buttavo giù, 10 carelli, il giorno, ogni carello ce ne ho 8 paia, e sono 120 scarpi, e mi disse, mi raccomando, dice, se tu me ne sciupi una, io te ne ha debito un paio, perché quell'altra, e che ne fu, le sono appagiate, e io, in questo periodo, imparai, e non, sempre ho fatto il lavoro esatto, e mi ho leo un bene, poi fallo i puerini, e ho detto, questa ditta, e mi andavo a contadino, mi andavo a contadino, dai ceseri, alla badia, mi andavo a contadino, e poi dalla badia, tornai alla Rufina, dalla Rufina, tornai a San Casciano, con il Marchese, Pierfrancesco Rosselli, mi insegnò la stalla, con 22 capi delle bestie, e 4 ore dovevo fare fattoria, per il fatto, rientrava nel ruolo, delle 100 bestie, perché per fare 8 ore alla stalla, ci vuole 100 capi di bestie, noi non c'era, capacità di ampiezza, era una stalla ristretta, più che 20, 22, 23 bestie, non ci stava, e ho sempre fatto, il mio dovere, mio Leon Ben, anche il Marchese, Rosselli, io sempre lavorando, io via la mattina, alle 7, per essere esatto, sui posti di lavoro, all'8, e facevo tutto il mio lavoro, poi mi ammalai, e poi cambiare, lasciai la casa, tornai a San Casciano, a Mercatale, da Mercatale, quando fui guarito, insomma, ripresi un po' i lavori, leggeri, dopo nel 1981, 81, 82, mi riammalai dell'angina per Tores, poi avanti a forza di medicina, mi tocca pigliarne, una diecina di giorno, tracce rotti, tra, ogni tanto mi si blocca la circolazione di sangue, per il fatto, di questa angina per Tores, mi blocca la circolazione, e mi tocca fermarmi, mi tocca, e io ho voluto bene a tutti, in il mondo, e ho considerato tutti i fratelli, come Dio mandano il Santo Vangelo, perché il mondo si è fatto noi, diciamatevi tutti, come fratelli, perché siamo tutti fratelli, nati da due progenitori, Adamo ed Eva, e tutto di lì che viene la generazione, e io, se ho potuto, ho fatto di bene, mi si accusa che i pacciani di ebuliardo, i pacciani girava, come doveva fare un po' a contadino, dopo aver fatto dieci ore di lavoro, andare a girare a peboschi, ma che sono pazzo io, andare a povere dei che, quello che è lì che girava, di un pazzo, di un malato, e giusto, non so come definirlo, ma non mi ha io, ho usato donne, e io l'ho amata, le donne, e l'ho adorata, perché è l'unica cosa, che si può avere nel mondo, non ti ho voluto male alle donne, io l'ho adorata, e l'ho amata, e ti ho voluto bene, e questo si vede, l'aspreciare tutte, che andava a queste povere disgraziate, lì non c'è, né rancori personali, né scopi di interesse, né gelosia, mi si sente dire da qui, da questi, un pisiologico, come si chiamano, insomma, dice, questo uomo era sano di mente, secondo voi, e dice, sì, come sì, dice, stanno di mente, dice, sì, in piena fortà di intendere e volere, sì, ma lei l'avrebbe fatto, e che gli ha fatto questo disgraziato, non fa male, e Dio lo brucia all'inferno, andava lì a do fuori ragazzi, do fuori figlioli, senza egli fatto nulla, che male che hanno fatto questi poveri ragazzi, che facevano loro, noi si facevano le moglie, si facevano le nostre moglie, e tutti, e vada a vedere che fa un altro, e lì si vada a vedere che il segno, non ha la capacità, di intendere e di volere, che è un pazzo, un malato, è giusto, io fuori lo disgraziato, si arriva a casa, mi mettevo lì, bevo un bicchiere di vino, e lì è giusto, delle volte, c'era la mia donna, mi toccava le scarpe, perché ne avevo avuto anche troppo, ma io bevevo la sera, e poi andavo al letto, dopo cinque minuti russavamo un gatto, la lo distraccherei, poverina, le stava portando giù, questa povera donna, queste poveri figliolucce, e le non stanno, ne è che le dicano, ne è che le fanno, tutto un imbroglio di un mondo, non so perché mi odia male, e io non ho fatto male a nessuno, vennero giù queste figliole, le vennero a dire, che il babbo ci dia la carne dei gatti, ma come? se si mangiava i medesimosi cani, se la mangiavano loro, la mangiava anch'io, è giusto, e io mangiavo la carne dei gatti, siccome la mi vedeva, le erano piccine, la vedeva comprare la trippa, per i cani, c'avevo tre cani, e poi io compravo la trippa buona per noi, anche perché a me la mi piace, fatta la parmigiana, a sugo, non ho, le vedevano, l'era uguale a quella dei cani, se si faceva mangiare la carne dei cani, ma ragazzi, mi sento di tutti i colori, Dio, Signore, benedetto ragazzi, poi, questa povera donna, anche lei, lei, se uno gli domanda, è che ti ha mangiato ieri, non se lo ricordo a mia, poverina, la mia orpa sua, io, la sposai, era una donnina in gamba, la faceva mangiare, non c'era nessuno, la faceva mangiare come lei, poi, poverina, la perso il cervello, e ti aiutavo io, ti aiutavo a spazzare la cassa, ti aiutavo a fare il buato, ti aiutavo a ore libere, ti aiutavo a fare tutto, e mangiare, più che altro, lo facevo da me, gli facevo la spesa, andavo a fare la spesa, non gli facevo fare nulla di fatica, nulla, Dio signore, me ne hanno buttato addosso tutti i colori, c'è i pacciani, guardone, io guardone, io sono un uomo perfetto come tutti gli altri, e ne do la prova, io non ho mai andato a guardare, se fosse andato a guardare uno, fa quelle schifezze, uno fa guardare, che fa un altro, io lo facevo la mia moglie, la mia moglie a posta, è giusto, e poi guardare, ma l'hanno inventata tutte, una dietro l'altra, poi lo smentì anche, anche il brigalliere di Bella, lo smentì, disse, noi siamo fatti indagini, dice, non ci risulta che i pacciani girassi, c'è i tozzetti, Carlo di tozzetti, era guardia caccia, nella nostra fattoria, e lui girava tutto, dalla mattina alla sera, nei boschi, dice, i pacciani non li ho visti mai, né andati a caccia, né a girare i boschi, viene sta grullerella, di posto di medio, io non offendo nessuno, ma offendo a me, e mi risento, perché se una cosa è vera, io andavo a sbagliare, e mi in ginocchio davanti a un bambino, ma si senti di tutte le infamità, e figli arrabbia, dice, bacciani, violento, violento io, paolo disgraziavo, e trovo via starito, lavoro, il malattosso, lavoravo, dice, sta sperduto Maria, l'ho conosciuto, dice, è passato a casa mia, con il fucile, io non ho avuto mai, né fucile, né portodarme, potete sincerarvi, e io vado a caccia senza portodarme, e senza fucile, io avevo un fucile antico, lo regalai ai miei nipoti, e non vorrei nemmeno nulla, perché io le armi le odio, amo la pace, non la guerra, è giusto, e intanto, perché se ne sente di tutti i colori, se ne buttate addosso a un fucile, lo disgraziavo, senza una ragione, senza nulla, ragazzi, ma che no, che me ne hanno combinato una, poi, il fatto di questa cartuccia, dannata, che chi ce l'ha messa, egli possa bruciare l'anima di cervello, quella casa, io la comprai con la Betty Elena, c'era l'inquilina, e la comprai nell'85, andò via la Betty Elena, per mandarla via, mi ci ho messo un avvocato, da allora in poi l'ho lasciata a vota, non ci ho messo più nessuno, perché per gli inquilino, che torna in una casa, allora non c'era sblocco di fitti, per quattro anni, hai diritto alla casa, poi c'è la prologa, per ritrovare la nuova casa, altri due anni, e si chiese quattro, e due sei, sei mesi per sei mesi, che gli hanno diritto a quattro prologhe, e sono due anni, quattro e due sei, allora dissi, la lascio vuota, e non ci ho messo più nessuno, questa qui per mandarla via, la non voleva pagare, nell'affitto, nel consumo luce, quasi, insomma, nel consumo della luce, di gas, e compagnia bella, e voleva stare lì, e non mi voleva nemmeno pagare, allora, e va a prendere questa qua, l'andò via, ne è stata vuota, e lì era rimasto tutto abbandonato, perché non si stia tutti in piazza di popolo, là, con le figliole, lì, era rimasto tutto abbandonato, nel 91, io, esci di qua, ti fatto delle figlie, e tornai a casa, tornando in piazza di popolo, a casa, mi imposero di tornare là, con la mia moglie, lei la deve lasciare la casa, perché le è intestate alle figliole, la sicurezza, ma se puoi, e usci, io, le pensano a darmi la mano, babbo, perdonaci, ce l'hanno fatto di queste cose, babbo, ma io non porterò ancora nessuno, poverine, e allora, infatti, imponendomi di lasciare la casa, lasciare la casa a loro, non portava nemmeno una forchetta, tutta arredata di quello che c'era, e lì non manca nulla, perché io, lavorando, e sordino, non mi ha sciuppato nemmeno un centesimo, e di servare per i bisogni, insomma, perché lo c'era di bisogno da fare, io ho imparato questa casa, intestata a loro, lì di lasciare tutta la roba, mi imposero di tornare nella mia casa, e torna là, perché mi imposero di tornare nella mia casa, in quella casa di là, e c'era un motivo, tornando là, gli erano stati preparati tutti i trucchi, io non dico né chi li ha fatti, né chi può essere, né chi non può essere, insomma, intercettazioni canore, tutti i microfoni nascolti, quello, l'ha nel telefono, uno sui tetto, uno si ragionava, la mia moglie, se uno, che gli hanno camuffato anche i nastri, se no, e potevano sapere tutta la verità, come si diceva a letto, io mi sentivo male, a volte dalla rabbia, ci persebitano, e si ragionai, comunque la porra donnuccia, ma guarda, ma ci siamo ritrovati, ma è che si è fatto di male, si è sempre lavorato, dalla mattina alla sera, e ci si lamentava, di tutti questi fatti, tutti questi male, ci volerano, addosso, ci muttono addosso, e si che, e lì, gli hanno rigirato, questi nastri, che non stai tagliati, riusciti, gli è stato camuffato la mia voce, gli hanno fatto la voce da Toscano, con un accento che io parlo, che parlo quella lingua lì, inoltre poi, queste, queste, questa intercettazione, c'è un monte di bestemme da fa' paura, mi segnavo io, ma ci segna la croce, andai senti, io di tutte le, io che bestemmio io, ho fatto, stavo a servire la messa, ho letto il santo pangelo, nella miscella, e c'è la sacra bibbia, il santo pangelo, c'è tutti i crocifissi attaccati, ogni mattina e sera, io, Dio la mia preghiera, perché, nel mondo, non si è fatto noi, c'è sempre un essere supremo, che comanda, nel mondo, e tutti, bisogna fare il nostro dovere, giusto, sempre io, aiutavo tutti se un po' su, nelle mie possibilità, di male non lo volo a nessuno, io non so perché, vogliono in male a un disgraziato, non ha fatto nulla, non ha capito, non è me l'è, e poi, oltre a quello, si trova questa cartuccia, questa cartuccia, infilata, arriva, cominciano, portano su una mestola, la chiamano il metador, il matador, che non mi ricordo neanche, come si chiama, che era prevista, di trovarla con questo metador, io ho fatto quest'orto, ci portai, passa 4.000 secchi di terra, ogni giorno, due cardarelle, due secchioni di terra, perché erano tutti detriti lì, delle scorie, siamo in mezzo a 22 famiglie lì, e sono in mezzo lì, e sicché tutti i carcinaci, sassi, per farci un pochino d'orto, la faticante, e mi messi lì, feci questo interamento, poi trovavo ad andare a lavorare, le piantine, come un dito, le piantavo lì, un pero, un melo, un pesco, un albicocco, ma tutta, ti essi permesso, tutte piante, non superassano i 4 metri, perché l'invicinato, bisogna, bisogna non pararla visuale, insomma, e mi fu accordato, e l'annestavo da me, queste piantine le curavo, e le governavo, feci questo orticello, ci pianta le vite, si parla di queste famose buche, è vero, non una, ne feci tre, né quest'orto io, dopo tornata a casa, allora, tornata a casa, vedo una cassa, in mezzo a queste vite, era nata da sé, perché in vento, porti baccello, scissimino, volano giù, e questo, aveva un gambo così, in artezza di un paio di metri, è un fustoso, e gli fece la mia moglie, o che ci ha piantato, è la cassa, e dice, da sé l'è nata, e che lei ha visto una cassa, lei poverina, non se ne intende, di le piante, e io l'annaffiavo, e la crescesse, brava, e tu faci un backup di lavoro, allora io, la tagliai, poi fece una buca, fonda a un mezzo metro, per levargli tutte le piccole radici, perché se uno ci lascia anche una radice, ritorna sulla pianta di nuovo, e con una mestola, un raspetto, insomma, e un appalanchino di ferro, e faccio sta buca, e levai tutte le radici, e poi la ricopri, e vicino a quell'abete che c'è, quell'abete che c'era il coso, come si chiama, l'avevo comprato per fare l'arberino di nasale, per le bambine, con la serra e tutto, e fu piantato in quest'orto, ora c'è cresciuto, c'è grosso, insomma, e tutti gli anni, io anche da grande, lo caricavo, gli mettevo tutte le palline, là c'è faccio l'arbero di nasale, e un ricordo di queste bambine, insomma, poi, una le quella la buca, un'altra, vicino all'uscio di cantina, c'era una piantina di melograno, e quelli danno, e fanno il frutto, fanno le belle mele rosse, ma lì, vicino all'uscio, dava noia, allora, lo sbarbai, con tutta la terra attaccata, fece una buca, in vetta, all'orto, su vicino a quei capanni, e lo pianta lì, poi, l'altra buca in questione, è quella, è quella, può essere quella che si ragiona, perché da questa tettoia, a questo telo, e mi proiettano, mi contano, passi facevo, nell'orto, non sappiamo mia nulla, io facevo il mio dovere, perché ho sempre fatto il mio dovere, non ho nulla da temere, allora, c'è, gemeva l'acqua, gemeva l'acqua, di biologico, che ci messi i tubi di 200, che portano, dal biologico, a pozzetti di scarico, e con questo, perché prima che uscissi io di qua, erano andati a fare dei saggini, quest'orto là, e bucare la terra, insomma, e compagnia bella, e mi sfondano il tuo tubo, e veniva l'acqua su, il terreno, porca idea, io me ne accorsi, fece una bella buca grande, è vicino al bagno, e c'è delle fegole ritte, poi si può sempre andare a vedere, anzi, avevo chiesto alla signoria vostra, alla corte, di andare là su, gliene insegnavo, da me, dove era questo, questo tuo, io quello che ho detto, è tutta la verità, si può controllare, parola per parola, perché io le bugie, non le dico mai, se una cosa è vera, perché dicendo le bugie, uno dice una volta, non muoto, una volta un altro, ma c'è trappole che gli hanno venuto a testimoniare, ma come, si sente dire, allora, ah, il fatto di questa buca, questa buca, ritrovai il tubo, e fressi il collante, i collafrene, e rifressi un altro fesso di tubo, lo risardai, e lo raggiustai, e ci feci sopra una gettata di cemento, e agliaione di tre o quattro cardarelle di cemento, per via, lavorando, non si possa più ritrovare, lavorando nel terreno, e lascia la buca aperta, come risulta da, ho letto, ho sentito, dice, lascio la buca aperta, dice, cinque o sei giorni, e certo, è vero, perché buttai questo cemento sopra, bisognava prima di ritienare la buca, lasciarsi caccare il cemento, e questo si può sempre ostacare, perché, è in questo determinato punto, che io gli insegno, vicino alle fegole, mezzo metro dai bagno, c'è il bagnettino nell'orto, che porta e passa poi il tubo vicino alla rete, e vanno i pozzetti, e lì si può sempre ritrovare, ed è come tutti questi, è come questo proiettile velenoso, diavolo, e qui ce l'ha messo, cominciano, dice, qui, qui, ah, dice, fatemi di qui con questo metador, vanno di lì, e appoggiano questo metador, sopra questi travetti di cemento, perché, io andavo a lavorare, fattorie, ogni volta il trattore, fichiava, non di questi paletti, e si stroncava, e allora, il padrone, lo faceva sostituire, con quegli nuovi, dividavano la scorta, e gli buttavano via quei dì, e io gli fidiavo, per fare i violetti, in questo, in questo, in questo orticello, insomma, di non si sporcare, andate più via, le scarpe, e compagnia, e ne ho messo, una fila di qua, e una fila di là, e una fila che va, dal muro, al cancello, vicino a questo cancello, ce n'erano due, e me dice, li hanno rotti, quali rotti? Gli messi io, spezzati, perché, per far la curva, di vialetto, e ci vuole il pezzo, perché, sono quattro metri, se no mi andava fuori, non potevo fare la curva, allora, io, con due martellate, e lo trinciaio, e sto paletto, e lo feci di 50, 60 centimetri, cioè, un metro e 50, un metro e 60, questo proiettile, non è stato trovato, nella rigatura, della spezzatura, ma è stato trovato, nel centro, e c'è tutti i buchi, in questi travetti, di alleggerire, la pesantezza, di paletto, e poi, servono per passafili, ma la dimensione, di un franco bollo, di un franco bollo, la larghezza, e la lunghezza, e lei ha un 5 centimetri, più, di questi paletti, o, una cartuccia, messa lì, ritta, ritta, e interrata, interrata, e poi, per fare l'invecchiamento, è arrivata una lettera anonima, da uno, esperto, di invecchiamento, delle armi, ora io ne presento, io le ho, se è Dio, le ho tutta la verità, potete, stata, da questo, quest'anonimo, dice, prima voi, avvocati, che esca, i pacciani di qua, di carcere, pigliate un metanor, un metator, come si chiama, e frugate tutto l'orto, e frugate di la casa, perché qualcuno, e di voi male, poi avete interrato, qualche, questa famosa arma, nell'orto, verificate, e fu presa la leggera, o fu fatto, e tanto, come dice la lettera, e come fu fatto, questa cartuccia, infilata lì, interrata, per portare poi, l'invecchiamento, come dice, risulta, da tre a quattro anni, interata, ecco subito il trucco, e ancora lassù, se non l'hanno portato via, anzi, cito alla signoria vostra, della corte, di pigliare, un mio avvocato, e qualcuno, e andà, costata di persona, lassù, lascianno, persino il flacone, dell'acido moriateo, ci fu buttato, sopra, per l'invecchiamento, l'acido moriateo, l'acido moriateo, corro, e il sasso, figuriamoci in metallo, e ha dato, un invecchiamento, da tre a quattro anni, non dico le bugie, Dio mi ascolta, è la sincera verità, se discesse una bugia, e Dio mi bruci, l'anima nell'inferno, l'è ancora lassù, se uno è stato portato via, il flacone, dell'acido moriateo, l'acido moriateo, c'è trovato, questo artuccio, qui, qui, no, anzi, dice, qui, prendano questo metador, fatevi di qui, appoggiano questo metador, su questi paletti di cemento, ed impazziva, perché, hanno macchine, sensibili, che trovano la forcina, di un giornale, figuriamoci, lì, che in questi paletti, c'è il ferro, e i tondini di sette, e ce ne quattro, uno per angolo, incorporati, in cemento, non si vedano, allora, quando appoggiano questo metador, in questo paletto, impazzivo, mi fa uno, non voglio fare nessun nome, mi fa uno, dice, quello era, ha detto, ma Pacciani, che c'è il ferro, dentro a questi travetti, e certo Dio, sono armati, se no si romperebano, io come corpo umano, sono ucciso all'ozza, e si asca, e si s'affroccia antera, e tanto sono questi, allora lasciate qui, lasciate fa' qui, andate avanti, e gira, rigira, rigira, poi lì con un dito, tri, 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 qui, 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 e con la macchina, con quelle macchinette, a fotografare, compagnia bella, era tutto previsto, sacchettini di, di, di metilene, per metterlo dentro, la finzettina, per prendilo, tutto preparato, si doveva trovare, questo, questo qui, allora, si arriva, e cerca, e, 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 raspa, fotografo, ma io non vedevo nulla, perché, infatti, cerchio loro, e io ero un po' disparte, gli arriva uno, e, certo, non è mia, o se, io non offendo mia, nessuno, la verità, e c'è anche scritto, uno, un po' lì sotto, lo chiamano calisto, calistro, calisto, insomma, e fa, una ociniglia, una ociniglia, una ociniglia, io e gli animaletti, gli conosco, e sono, fatta, fatta bozzoletto, gli hanno tutte le, le picchioline addosso, nelle ali, e correva, per questo paletto, ci ha portato fortuna, ci ha portato fortuna, e io gli disse, Dio, ma come, gli è di Napoli, e sono, o Napoli o Milano, insomma, e tutto, voglio dire, siamo tutti italiani, dice, ci ha portato fortuna, come? E siamo nei duemila, e vuol credere ancora, nelle streghe, gli disse, a Napoli, gli dice, no perché, fanno un po' l'accento napoletano, ma poi non lo so, nemmeno di dottia, perché io, non c'ho mai, uso discussione, nemmeno di dottia, e dice, ci ha portato fortuna, ma loro non si riferivano, a quest'animaletto, che poi andò via, fuori di paletto, andate per il conto suo, si riferivano a questo, a questo fiastrello, insomma, che gli hanno scoperto, o sì quelli, dice, si vede lucidare, dice, la stilla, la scintilla, e si vede, questo proiettile, ma quale lucidare? E gli era come un sigaro bruciato, questo, questo bozzolo, gli era come una ianda, ecco, o uguale, tutto nero, o mi carbone, e fu scavata, il tondo, lo levò, non queste pinze, raccattono la terra, fu messo dentro, a questo polietilene, per levarlo, il travetto, fu levato, dal suo posto, messo su un tavolino, e tutto, messo, tutto, questi sacchetti, e gli avevano tutto, non sei già tutto preparato, dunque, se questo, è forte all'invecciamento, di tre o quattro anni, e poi, fu fatto tutto, come ho detto, nel novanta, e dovremmo uscire, io, due anni, era vuota, è l'asa, e quattro anni, gli fece, ah, quattro, tu sei, che ce l'ero messo, ma poi, mettendo, io, questa, questa, cartuccia, per fare che cosa, per creare un indizio addosso a me, io, non sono, né un passo, né uno scemo, sarò ignorante, su materie, che non ho studiato, ma poi, come si va, io, dovrei, preso, questa cartuccia, messa lì, interata, per creare un, un coso, mi chiamano, per creare un indizio addosso a me, un mio, un alibi a favore, e di, come ammazzarsi, con le sue proprie mani, è giusto, come il fatto di tir e molla, mi sento dire, che arriva, una lettera anonima, al signor maresciallo, insomma, di San Caciano, dice, c'è arrivato, questa lettera anonima, dice, con un tir, un tirate e molla, un tir, un tiramolla, un astamolla, un mirollo, un mirollo, un mirollo, via, ecco, sì, e lo sa benissimo, allora, è come, due famose, per sapere le cose, no, il giornalismo, quest'anonimo, quest'anonimo, e diceva, questa l'abbiamo trovata, dove andava a lavorare, dice, Pacciani, a Crespello, ecco, che la persona, che ha detto questo, non si intende dei posti, e non sa come si chiamano, perché Crespello, è un bosco, e io andavo a lavorare nel bosco, io andavo a lavorare a Luiano, dalla fattoria di signor Palombo, Alberto Palombo, una fattoria grande, e ero laggiù a lavorare, no a Crespello, e lui non pratico, Crespello è il posto di dire Luiano, e dista tre chilometri da un posto all'altro, giusto, poi dice, dove andava a passeggio, dice, la moglie e le figlie, come a passeggio le figlie e la moglie, nel bosco, loro andavano in paese a girare, ma con me, insomma, ma venavano a passeggio, nella moglie e nelle figlie, perché io non so, in città, che fidano la moglie, a braccio, le figlie, vanno a girare, io andavo a lavorare in orti, perché mi diano gli interessi, e loro andavano per conto suo, andavano a girare per il paese, e gli pareti, anche questa, vede, vede, e poi dice, se volete, questo, c'è un biglietto, se volete, dice, trovare, dice, l'altro straccio, uguale, dice, come è stato avvorto il tiro e molla, andate a vedere nei garage dei pacciani, dunque, questo, vi posso dire, non voglio spropositare, quello che si merita, se te tu sai, c'è uno straccio in mi garage, uguale, è segno che tu l'ha visto, è segno allora tu sei te, che l'ha stracciato, ha mandato sto tiramolla, per buttare un indizio addosso a me, e compagnia, se no, come sapete, che qui garage, è chiuso, che c'era un altro straccio, uguale, ma hanno fatto, persino un trucco alla macchina, alla macchina, c'ho questa Ford, e no, io dichiarai, andata alla festa a Cerbaia, e la verità, la luce, anche la bambina, hanno tutto ciò che li mi odiano, un po' male, perché, e gli dice, lasciacchi ragazzo, che stava buttando, addosso, queste chiacchiere, insomma, le se ne hanno usato, e tanta male, anche loro, ma è una famiglia, che ci hanno disprezzato, ci hanno alpestato, ci hanno fatto, tutti i colori, ma la lo disse, sì, dice, se era la festa a Cerbaia, dice, e il papo ci guastò la macchina, verso il meccanico, dice, a comodare, dice, chi era questo meccanico, il Fantoni, ma io, perché gli hanno detto di non lo dire, perché fu, a questo Fantoni, gli proibendo, gli fessero girare la versione, dice, te ti e tu non c'eri, lì c'è stato, ci stette su, lo lesse sul giornale, la magistratura di Firenze, sono stati quattro ore in caserma a San Casciano, e successe il finimondo, fu cambiato tutto, è la verità, se non fossi vero, che io l'otto settembre, partì alle tre e trenta, dopo pranzo, sandette a cena a Cerbaia, era la festa dell'unità, ma non per il partito, perché io, come gli ho detto prima, a me mi hanno bene tutti, io amo, amo qualsiasi, che regna, ognuno tira l'acqua e il sumulino, ma fanno le pollettine a rosto, la, e poi fanno la festa, per portare queste figliolucce, alla testa, e fu io, anche forzato dalla mia moglie, dice, le lavorano, l'hanno diritto anche loro, da andare, c'è la festa a Cerbaia, vanno tutti, dice, portaci anche noi, va bene, di ora, e voi all'orto, fatevi, trova pronte, verso le tre, e si va, prendo la forde, si monta su, si va alla festa a Cerbaia, e più che altro, andai, per quella figliola maggiore, e là un'amica, che si è sposata, la dia ha mandato, la fotografia, la si sposò, l'invito ad andare, allo sposalizio, non erano preparate, non hanno detto, non gli mandano fetti, erano state nei collegi, insieme, con questa povera figliola, e si chiama Rosanna Zanobini, a Cerbaia, la si è sposata, a Cerbaia, allora dice, voglio andare a trovare la mia amica, e da tanto tempo non l'ho rivista, dice, si era in collegio insieme, e si andò, si andò, questa figliola, ella era sulla porta, la ci invitò in casa, io bevo un gocciolino di vino, le mie figliole le bevano un licorino, insomma, un gocciolino, poi, noi si è andata alla festa, loro dicendo, e prima di andare via, rifermatevi, ma noi non ci si rifermò, le si abbracciò, le si salutò, e compagnia bella, insomma, più, aria ripartì la sera, verso, le nove e mezzo, le nove e mezzo, le nove, un quarto alle dieci, metto in moto la macchina, con la chiave, zzz, zzz, una forza, non valeva partire, valeva un prato, e l'ha fatto pochi chilometri, poi, poi, zzz, zzz, insomma, e non voleva partire, allora, come c'era, lì, a fianco di tavolo, insomma, vicino, il Fantoni Marcello, di un meccanico, e lavorò, i bellini, a San Casciano, e lì, ogni volta, ho avuto bisogno, a volte, per far partire, quella 500, vecchia, l'ho tenuto a 22 anni, a volte, la partire, a volte, e lo chiamavo, me la riguardavo, e hanno detto a chiamarlo, gli disse, la mia figlia, e la mia moglie, aspettatevi, vuoi chiamare Marcello, la un parte, allora, viense, hanno detto a chiamare, questo meccanico, Marcello, e mi disse, dice, ma ora, dice, guarda, dice, finisco, dice, dove ti ha parcheggiato, niente a posto, finisco, dice, vengo subito là, va bene, arriva là, io l'aspetta lì, con la sua macchina, e io, monto dentro, e gli feci vedere, come, questo andamento, di questa macchina, dico, guarda, ma, la un parte, zzz, zzz, fermo, 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 non insiste con la chiave, tutte queste testuali parole, dice, non insiste con la chiave, perché tu scarichi tutta la batteria, e la macchina non ti parte, perché se è bruciato, l'alternatore di minima, mi sembra, mi dicesse, o, o, l'interruttore, insomma, l'alternatore di minima, o l'interruttore, insomma, non appare che stacca la corrente, dice, ora, senti, ma si fa, si prova, ho mia chiave della batteria, attaccata la mia batteria, e se la parte bene, se no, io monto su, guate, vupiciate, si mette in moto, in corsa, e tanto si fece, attacco la chiave, un colpo di chiave, la parte, subito, entro in moto, mi tirò l'acceleratore a mano, mi disse, lascialo tirato, come l'ho messo io, l'acceleratore, perché se la si riferma per la strada, non parte più, poi mi disse, voi altri vanno avanti, noi, e vi si sta dietro, se la si riguasta per la strada, dice, vuoi montare tutti noi, e domattina, si pigli i caratterizi, e si viene a pigliare, e tanto si fece, arriva, arriva a casa, io, non si rifermò, la messi nei garage, e la mattina, telefonai, caroziere Gianni Roberto, dove l'avevo comprata, e mandò l'operaio, i caratterizi, la si attaccò, la spinsi fuori, gli aiuta io, e me la portò in officina, io, perché, la feci raccomodare a lui, invece che Marcello, perché l'avevo comprata da lui, pensando, mi farà risparmiare a qualche cosa, invece di Cicilluccio, me lo fece vedere, di un affaruccio, come un pisello, un galeccecino, se una molla stacca, basta, insomma, io non me ne intendo di motori, allora, e mi fece vedere, guarda, dice, su, cambia questo, e io dissi, quanto ti devo dare, e disse, mia, tu mi dia 100 mila lire, porca mia, come 100 mila lire, per questo aggeggio, 100 mila, bambino disse, non è mia, questo sai, dice, che costa, questo io, e costerà, e costerà 5 mila lire, e il tempo, e gli ha impiegato, dice l'operaio, gli ha avuto a tirare giù, tutto il motore, perché gli è dentro, alla Ford, gli è dentro, e sta aggeggio, finché ci ha messo, mezza giornata, io sono preso, giusto, basta, lo pagai, e via, questo qui, e quando, quando me l'accomodò, ma me l'accomodò, dopo dei giorni, ora non mi ricordo, è preciso, tanti giorni, insomma, me l'accomodò, dopo dei giorni, questo qui, e io, questo, 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 Antonio Marcello, quando è successo, è fatto, io, e lo citai, della verità, è giusto, negò sotto giuramento, che il Dio lo castigli, anche lui, perché il Dio farà le osse giuste in il mondo, e darà in merita, che se lo merita, e lui lo sa chi sbaglia, chi è giusto, e chi è storto, allora venne qua, ti ebbi coraggio, di te, di, 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 la farsità, sotto giuramento, dice, io non c'ero, io non c'ero, quando a casa sentì, che io, che lui ti aveva negato, dice, mi disse, no, no, ti ha detto Marcello, e Marcello non c'era, come un c'era, no, lo trovo in piazza, si sta uscio a uscio, anzi, di, è il muro lì, dalla mia moglie, la parla dalle finestre, una sua moglie, ma la non si possono vedere, perché lì una donnaccia, quella lì, no, la chiama la gruga, lì, la collo, sempre fuori dalla finestra, ascoltare le chiacchiere della gente, e poi una pettegola, lo racconta, beh, vabbè, la racconta, chi è un, è vero, allora, la chiama la gruga, l'onna non è figliore, nulla, una bisbetica, cattiva, lasci stare, parli del fantoni Marcello, e racconta, allora, arriva, e lo trova in piazza, gli disse, Dio Marcello, ma perché ti hai negato la verità, a di la verità, che cosa, tu, tu non offendimi a nessuno, l'è la verità, non tu me l'hai messo in moto la macchina, ma se no, come tornavo a casa io, se con questo affare bruciavo, tu me l'hai messo in moto la macchina, perché ti ha detto di no, ma tu mi hai fatto chiamare, da rabinieri, io non voglio nessuno, dice, a casa mia, hai un cero, hai un cero, hai un cero, tu sei un po' di buono, tu sei attivo, dici, viliaco, e gli dice insomma, che parola, c'era la sua moglie, tra poco la mia vadiocci, la dice, non offende, sa perché io, oh, ma è da scappare, come un gatto, la mi salventò, ora, e domande a Dio, gli è stato girato, questa verità, di menzogna, io non c'era, non c'era, gli stavano girato, le testimonianze, poi, perché la sera, la sera dopo, il 9 settembre, anche allora, verso le tre e mezzo, così, venne, a interrogarmi a rabinieri, ora, io, non posso dire, se c'era il maresciallo dell'Odato, o altri due rabinieri, o se c'era un graduato, o altri due rabinieri, perché gli è passato degli anni, poi vestiti in divisa, insomma, sono quasi tutto uguali, ma, allora, era lui che comandava la stazione dei rabinieri di San Casciano, il maresciallo dell'Odato, ecco, allora, venne là, vennero lì, mi dicono, dice, sono nel campanello facciano, mi dice, ci apre un momentino, dobbiamo dire due parole, dobbiamo fare due parole, venga, venga, la mia casa l'ha aperta a tutti, giù, aprici il bottone, e venga su, gli offrì da bere, ma si farebbe, in segno d'amicizia, si mettono a sedere, si mettono a sedere, accomodatevi, volete qualcosa da bere, insomma, no, 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 noi siamo in servizio, dice, due parole, poi si va via, lei ieri sera, dove era, mi disse, il maresciallo dopo pranzo, e io gli raccontai tutta la verità, così, 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 si è andata alla festa, dice, lo potrebbe, dice, cioè, lo potrebbe, confermare, dice, c'è qualcuno che l'ha visto, al Cerbaia, insomma, potrebbe, indicare qualcuno, altro che, dice, guardi, c'è il Fantoni Marcello, lì di fronte, gli insegnare la finestra, me l'ha messa in moto lui, e dico, e se no, potremmo ritornare a casa, va bene, dice, allora, dice, permette, si fa una piccola perquisizione, non si ha mandato, ma se si vuole, si procura, dice, perbacco, la venga, io non ho nulla da nascondere, la venga, la venga, frughe tutto, la casa mia, le ha a sua disposizione, dice, ma, dice, ci faccia strada, vada lei avanti, vada lei avanti, e han detto, apri le porte, c'è quattro stanze, dice, apri l'armadio, apri il baule, apri, apri la, e guardono dappertutto, poi mi dissano, c'è altre stanze, sì, c'è il garage giudeo, ma, la macchina, e lei, in carrozzeria, perché la si bruciò, ieri, con me, andettono anche la giù, guardone, compagnia bella, e fu perquisito tutto, anche il garage, loro, andettero, passano di lì, da Gianni Roberto, perché la strada, che va a San Casciano, la fianca, con la carrozzeria, e andettono a vedere, e la mia macchina, era lì, era rotta, era, era in questo, in questo garage, di questo Gianni Roberto, e la verità, insomma, gli stava fatto, tutta una tragedia, gli stava sparigliosa, allora, queste, come si chiama, questo, ah, cioè, arriva, io dissi tutta la verità, e compagnia bella, poi c'è un altro fatto, ah, c'è il fatto, di questa Bertuccia, che la mia, sa, a testimoniare, le una matta, perché, gli stava fatto, la selezione, non voglio offendere nessuno, ma è già più furbi, allora, portagli là, tergan questa Maria, sperduto, dice, che io, della verità, che citai, feciam la festa, a Monte Firidolfi, e c'era, il fattore, di Menichetti, con la sua moglie, e mi invitano loro, alla festa, mi disse, perché loro, hanno, come si chiama, protettori degli animali, e, e guardia, ascia, io, secavo l'erba, vedeo, e fagianini, le fagiane, l'andavano via, siamo riserva, un tondo, e gli lascià, il sciuffo dell'erba, questa fagianina, dopo un po', la ritornava a copoli, e dice, passa, il fattore, di Menichetti, con la sua moglie, e mi fanno, dice, pacciani, perché la lascià, tutte le pezzette d'erba, uno in qua, uno in là, pezzette d'erba, Dio, ogni sciuffo d'erba, c'è una fagiana a copoli, madonna, e ce n'è una, e l'erano otto, dieci, dieci covate, o lui e la moglie, li andetano a vedere, di persona, li andetano a giù, Dio, non sta vicino, se no, tanto, perché se no, la va via, e lei puoi rinacquattano, l'ovale, lì, e io, quando nascendo, questi fagianini, gli erano piccolini, gli erano come un purcinello, insomma, e, sì che, io, non ho salvato i tanti, guarda, che stomo, di stante fagiane, gli ha salvato, domenica, c'è la festa a Monte Feridolfi, la festa dei Anciatori, tu sei il primo a essere invitato, a spese nostre, mi hai messo a tavola, vai, dice, mettiti qua, e mi hai messo a tavola, lì, e, tutto pagato, mangia, e voi, e tutto pagato, ora poi, feciano anche, il ballon piazza, feciano il ballon piazza, e c'era un'occhestrina, insomma, io, e mi fermai, a vedere, c'era questa donna, feci due o tre balle, anch'io, vedi la verità, c'era questa donna, questa Maria Sperduto, ma io non la conoscio, perché loro stiano un pesa giù, vicino alla sede giù, sotto monte giù, e lei, dice, questa donna, mi fa, si balla, si balla, si balla, ma ballamo, dici, ma si farebbe, e la mi prende, e comincia a startellare, come un capretto, perché lei, nessun posto, e ballano, in quella maniera, insomma, ballano, la farantella, insomma, a startetti, e io, e gli disse, Dio, ma signora, e ballano un tango, non lo senti, e Dio, come la fa a ballare, ma danno si ballano così, danno si ballano così, e fece un par di cini, poi, è una donna, io non voglio sprezzare nessuno, insomma, la mandate via di grazia, aveva un odore particolare, e la mollai, grazie, grazie, lo stesso, grazie, se vuole, ti offro da bere, e ti disti, come gentilezza, che la mandate a ballare, no, insomma, poi io, ho stati un po' lì, e dopo andai via, andai a casa, quella volta lì, l'ho vista, e una seconda volta, quando feci la festa a San Casciano, anche lì, c'era la festa, ballavano in piazza, e mi invitò, un'altra volta a ballare, allora, insomma, l'era un po' messa a medio, l'era vestita un po' bene, insomma, e la mi prese, e feci un par di balli, poi la mi disse, oh, mi paghi qualcosa da bere, qualcosa di fresco, o un cardo, un cardo, ma, diamo Dio, allora, c'era il betolino, andetti là, gli dissi Dio, a quello che vende, a este divide, dacci qualcosa da bere, qualcosa di fresco, un aranciato, una Coca-Cola, un bitter, insomma, poi, di fresco, mi disse, non c'è rimasto nulla, c'è rimasto solo un po' di cognacche, se vuoi bere questo cognacche, se hai un po' di cognacche, ve lo do, allora, lui, io disse, ma, dammi un gocciolino di cognacche, mi ha detto un gocciolino di cognacche, e lei disse, che la beve, e io, anch'io, anch'io, e gli dette, un gocciolino di cognacche, anche a lei, ma, la bevea e bicchieri da mescita, da vino, e gliene dette un pochino, sin i bicchieri, in fondo i bicchieri, perché c'è bicchierina apposta, per quello, lui, un da ea, e ne mettea la regola, insomma, di un bicchierino, e la fa, questo solo, o una sete, questo solo, no, ma di cognacche, no, dice, dammene del lato, dammene del lato, no, dammene del lato, no, e prese due, doppio cognacche, poi, la si sventola, sotto e sopra, e, segniamoci a un pochino, a il fresco, andati su una panchina, insomma, fatto sta, io senza rearia, e dunque, non sono disposta, torna domani, torna domani, la mi fece perdere, mezza giornata, voglio dire le cose precise, come le stanno, parola di nostro signore, la riva, e la mi fa, dice, torna domani, orca mia, io che fa, bischero, grullo, come siamo noi uomini, arriva, prendo mezza giornata, di, perdo mezza giornata, di lavoro, telefonai, hai il mio padrone, domani, è il mercato, io vengo, dopo, dopo pranzo, a lavorare, ho da andare a San Casciano, a comprare della roba, e gli è il giorno di mercato, lì lo fanno il lunedì, arriva questa, viene là, e arriva, no, e io, ho preparato una torta, una bottiglia di rosatello, insomma, pepepe, arriva, dice, prima devo fare un po' di spesa, prima devo fare un po' di spesa, e gira per quelle bancarelle, vedo un po' di sandalini, dice, ecco, dice, voglio comprare questi, se gli misurano, gli arriva, dice, quanto, quanto gli devo, e fa, dice, lo lì che ti vendeva, dice, costano 25 mila lire, senza tara, dice, gli è il prezzo giusto, l'apro un borsellino, ma, 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 e ce ne ho 20 mila sole, non ti posso pigliare, e io gli dissi, gli va, la ne ne dia lo stesso, gli pago io le 5 mila lire, e, e gli pagare le 5 mila lire di giunta, di questi sandali, poi la omencia a girare, la metterà per la mano, questa cigna, questa è la mia garba, compramela, compramela, e gli compra una cigna da donne, un'altra 7, 8 mila lire, insomma, per fare un discorso orto, un monte di roba lì, quella cosa, è la tagliarba ognosa, il valore è che un'ottantina di mila lire, poi sta qui, e mi dice la fa, non mi sento, non mi sento, non mi sento, come tu non ti senti, tu mi hai fatto perdere mezza giornata, veni qua, e compramela, e ti ho comprato un monte di regali, come tu non ti senti, non mi sento, non mi sento, allora mi scappò la pazienza io, perché, quando le coste non vanno per il giusto, e mi arrabbio, e gli feci di loro, come tu non ti senti, e allora dammi qua, dammi qua, e gli disse, e vi è stato testimoniato, c'era presente i calosi, e non so se la si ricorda, perché parla il toscano, un pochino carcato, e faceva, e disse, gli ho comprato questa roba, poi gli dice, dammi qua, dammi qua, ti faceva no, dice, cosa vuol dire, dissano qui, dammi qua, dammi qua, e volevo dire, rendimi qua, questa roba, dammi qua, dammi qua, la mia roba dietro questa, dammi la, dammi sta roba, dammi sta chattino, e tu ti rendo sandali, e ci ho rimesso 5.000 lire, queste sono tue, e ti regalo le 5.000 lire, ma che tanta roba lo comprai, io, con i soldi, Dio, ma tu mi hai regalato, regalato, e te che ti mi hai regalato, insomma, fatto sta, gli ripeto, buona fortuna, e non c'era nessuno lì, di autorità, se, disgraziatamente, vede casi, della vita, se, disgraziatamente, c'era, qualcuno, e dice, ma ha preso la borsa, ma ha preso la borsa, mi prendono questa borsa, e trovano tutti, questi cindoli da donna, tutta questa robuccia, dice, lei lei gli ha rubato la borsa, vediamo che si fa nel mondo, allora, fatto sta, e porta a casa, tra fuori, busco anche dalla mia moglie, perché lei è gelosa, la va a frugare nella macchina, la trova, questo sacchettino, la mi disse, oh, dice, ma mai tu mi hai fatto questi regali, io sapevi che di Dio, noi i tuoi compri hanno, i miei compri hanno, ma io sono andato, e insomma, un po' lasci credete, un po' no, eh, ma la di presa è questa roba, è questa roba, e questo, e la mia sa dire, questa qui, io l'ho conosciuto, veni a caccia, veni a caccia alla zambua, dicendo, la stana lei, o no, nemmeno, mai avuto io, né porto d'arme, né fucile, lei la mia ha visto, il fucile a spalla, dicendo, la zambua, ma invece, è quella la verità, che io poi, non l'ho più rivista, la viene testimoniare, che la lampadina, veni a cercarmi, io va cercando, trume la maniera, rispetto parlando, ma, venirebbe conoscerla di persona, per giudiarla, insomma, la disse tutte queste infamità, che non è vero nulla, non si può parlare qui, perché, bisogna chiederla, il permesso qui, alla signoria vostra, se uno gli dice, che cosa poi, dice, tutto quello, e voi dite, può l'essere girato, contro di voi, e la norma, e dice, ma io, non è che dica, le bugie, ho detto tutta la santa verità, come il fatto degli scopesi, che era la festa a Cerbaia, e ho testimoniare, che ho citato tutto, me l'è andata, mi vedo, mi vedo, mi devo sentire dire, vene uno, dice, l'ho visto, con i bracci fuori, aveva una macchina, una striscia rossa, dice, ho un braccia fuori, ha un braccia felose, i peloni il petto, io, e ce l'ho il pelo, ma gli è bianco, perché gli è, gli è, sto biondo, ero biondo, io, non si vede nemmeno, e poi nel petto, e c'è le luci, come lui ha il buio, vede il pelo nel petto, loro è un usciuto, ha in nasa un aquilotto, ne inventano di tutte, no, questo dannato, dice lui, quell'altro, dice che uno, era uno più alto di me, dice, era qua, era là, che poi si misurò qui, che gli è più alto mezzo braccio di me, dice lui, anche quello, di stare a Roma, oh, l'8 settembre, erano tutti lì, 50 persone, tutti, in cui determinato punto, che la piazzola degli scopetti, l'ho vista io, più o meno, l'ho vista sul giornale, e la polessa, una piazzetta, ante metà di est'aula, l'ho vista sul giornale, ante proiettano i filmi qui, ma lì o lì, non ci sono mai stato, perché non c'è né bottega, non c'è mia nulla lì, allora, tutti, 50 persone, ah, c'era anch'io, ah, io ho visto il motorino rosso, io ho visto il motorino verde, io ho visto il motorino celeste, io ho visto, io questo motorino, l'ho dichiarato, che lo comprai da Bengasi di Monte, che è il Fabro di Monte, che di Vangalorto, era buttato nel ferro vecchio, me l'ho rimesso a posto, Marcellino Vori, che è il meccanico di Monte, e lo vernicià da me, gli dissi, vernicià lo vernicio da me, io ho passione a pitturare, pitturavo le porte, le finestre, c'avevo una tinta celeste, e già, è una gialla, e lo feci bicolore, farafanghe tutti gialli, di dietro lo stesso, gialli, e il telaio celeste, per la mia figliola, le erano grandi celli, si l'ampara con la mia intenzione, io gli volevo fare di tutto, a quelle povere figliole, gli diamo una laurea, gli compravo la macchina, se l'amparava, gli compravo la 126, le piccoline da donne, prima impara su questo motorino, gli feci d'ugire io, per la piazza, di Mercatale, e gli hanno un tubo di scappamento, gli è come un dito, fanno un rumore, un rumore frano, allora, gli feci d'ugire, Dio, guarda, tu lo metti in folle, poi, Dio, tu lo levi di cavalletto, quando te l'ha messo in moto, tiri la frizione, e ingrane la marcia, prima la prima, poi la seconda, e via, basta tumpare per ora, basta tumpare l'equilibrio, ti andava pianina, pianina, e ti feci due giri, io, bello imparare, bello imparare, vuoi lavorare, io, torno la sera, mi incontro una signora tutta arrabbiata, venga qua, bacione, che succede, venga a vedere che l'ha fatto la sua figliola, e che ha fatto, venga a vedere, allora, la mia porta a vedere, l'aveva affiziato nella macchina di questa donna, l'era cascata, un russolone là, in mezzo alla piazza, e poi, questa donna, questa macchina, l'ha già fatto una bua, è una macchina nuova, non abbia pazienza signora, la mia dica, Dio, andate là davvero, che vuole, sono figlioli, Dio, dice, figlioli, figlioli, e Dio, anche figlioli, ma qui dice, si tratta, io non voglio né quattro né sei, io la porto al carrozziere, quello che mi prende lui, la lo paga lei, va bene, ma accettare così, insomma, per fare un discorso corto, e magevolò, e pagai 90 mila lire di danni, della riparazione, insomma, e disse, io, e cerco, di fatti, spendere poco, e l'addirizzo, poi gli do il sottofondo, la vernice, però, dalla vernice vecchia, a quella nuova, si conosce sempre, dice, se le contanta, bene, così, se la vuole, riverniciata a forno, sciola un milione e mezzo, sento un po' pacciani, ma tutto questo, che cosa c'entra col processo? Tutto questo cosa c'entra? Della macchina rovinata, eccetera, parli del motorino, ora, lasci stare queste divagazioni, io la faccio parlare, per carità, entro certi limiti, cosa vuole che ce ne importi a noi, se questa macchina, riverniciata al forno, non riverniciata al forno, parli del motorino, se vuole, perché il motorino, siccome, ha capito? Sì, nella verità, dirvi un momentino, se può, di essere più, capito, aderente ai fatti, a ciò che le si contestano, non lo devo dire, se no, bisogna che io, ogni poco, la riprenda, no, è la verità, quello che mi disse, insomma, gli dati 90 mila, e fu, però, dopo, se ne accorse, dopo due giorni, perché contro luce, si vede, l'ombra, dalla verrice vecchia, alla nuova, e la volea, la reclamola, la volea, verniciata, insomma, a fuori, alla registrazione, lui ha uno stile, questo, allora, è successo, insomma, io, questa figliola, la si impaurì, non ci vuole più montare, su questo motorino, e io l'ho preso, l'ho chiuso, nel garage, c'è una catenina, con un lucchetto, la lucchettai, e non c'è più montato nessuno, questo motorino, non è uscito mai, dietro, dietro garage, io, c'avevo la 500, andi a lavorare con questa 500, e compagnia, poi c'è, un'altra, per andare in giro, il paese, anche la macchina nuova, l'ho comprata diversi anni fa, ma la ne ha fatto, la dobravo solo andare in mercato, una volta alla settimana, quando si e quando no, e poi la dobravo, per andare a qualche festa locale, di paese, e la fanno una volta all'anno, per esempio, la corsa, dei somari, a, cosa, come si chiama, su, alla, la festa all'impruneta, della mongolfiera, la festa di sciù, su a, a San Donato, un po' giù, e poi la festa, insomma, tutte queste feste locale, e le fanno una volta all'anno, e non le ho più, di adoprare, insomma, io, l'adopravo solo a qualche, a qualche festa, e poi l'adopravo solo, quando si andette laggiù, alla Sambua, insomma, alla festa, e si guastò, e un'altra volta, l'hai adoprata, quando andai a lavorare, dai miei padroni, non mi ho lea parti quella, ma se no, l'ho adoprata solo alle feste, e a, e andare al paese, degli anni l'ha già, però, come, i chilometri non fatti poi, e che gli hanno fatto? Hanno preso, gli hanno andato su, gli hanno preso, spiombato, il sicilio, di contachilometri, hanno fatto girare, i contachilometri, avanti, da 700 chilometri, l'hanno portato, a 7000, hai capito? quando si compra le macchine, il sigillo, la Ford l'è sigillata, con il piombino, e lì gli è stato rotto, e compagnia bella, c'è poi, se uno si pericia, gli è tutto nuovo, le gomme nove, le spazzole nove, tutto l'affare, sicché, si vede subito, che l'è stata adoprata, e io è stato, come ho detto, l'ho andato fra solamente, andare a qualche festa, andare a fare qualche interesse, e io, vediamo quanto ne hanno combinati, ne hanno combinati, di tutti i colori, ragazzi, Dio Signore Benedetto, come questi, dice ho visto, poi viene, questo buffone, non ti posso dire meglio, ognuno di questi, e se ne va male, la verità, e che tu vieni, a dire le cose non sono vere, allora, come ti devo definire, e degli è quel il tuo nome, questo qui dice, prima viene, e dice, ma hai visto il motorino, poi disse, no, e ritornò a testimoniare, mi sono sbagliato, dice, avea la forde, con un rigo rosso, questa, questa forde, l'ha un rigo grande, come un dito, celeste, celeste, o verdolino, insomma, e il rigo rosso, l'ha là, come un filo di spago, ma, ma fine, 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 nel centro, ora di notte, si vede il rigo rosso, la striscia rossa, ti vede qua, ti vede là, non inventate di tutti i colori, e poi dice, mi sbagliai, non eri un motorino, era la forde, era la forde, mi incrociò, io andavo in su, io andavo in giù, con i fari, lo illuminai, e vedi, e c'era un'antra, un'antro, un'antra, e dice, erano due, insomma, tutte, tutte, infamità che gli hanno tirato fuori, questo disgraziato, questo, lo chiamano, in paese, l'asciuca, la somara, non la si chiama l'asciuca, perché, e mi ascia così, ma, ma, io, ma, quella bocca, come l'asciuca, no, lo chiamano l'asciuca, lo pigliano in giro tutti, questo disgraziato, gli aveva, due amanti, due donne, insomma, e portà, dei giovanetti, di gente, insomma, costata a queste due donne, lui non l'ha voluto dire, ma si faceva pagare la benzina, e gli aveva anche la percentuale da queste qui, che le dividiano 50 mila lire, per volta, per uno, capito, e gli aveva una volta e cuccia, e faceva il testitore, e l'ho visto io, qualche volta a San Casciano, perché io non ho nessuna confidenza con questo, non trovava una volta, non andò a portare la frutta alle mie bambine, che lo disse poi, dice, lei ha un panierino, e gli ha fatto dorci, la mia moglie, ed è un pianierino di frutta, e le erano in collegio, gliene portare le mie bambine, la prima volta l'ho incontrata, allora, poi comincia a dire, mi ha conosciuto, nel 69, nel 70, io torna a San Casciano nel 73, come mi conosceva, e non ci stavo, dice, viene a dire, nel 70, nel 79, nel 70, ci tornano nel 73, è un cero, è giusto, è tutta una serie di imbrolli da far paura, ragazzi, Dio benedetto, signore, ma perché si deve andare a inventare le coste, e voler male a una persona, perché tu viene a biasimare, un disgraziato, ma che ti ho fatto io di male, che cosa ti ho fatto, perché tu devi venire a male, io non ti ho male di nessuno, ho voluto bene a tutti, se ho avuto bisogno, io insegnavo, io davo aiuto, c'era i vecchiarelli, io rispettavo queste donnucce, le andavano a fare la spesa, me ne portavo a casa io, le andavano certe borse, poi le donne, e le portavo io, dai, ma a me, e gli aiutavo, queste vecchiarelli, c'era un vecchiuccio, per la strada a piedi, lo mettevo su, fermavo, e la macchina lo mettevo su, io volevo venire a tutti nel mondo, perché se noi si tiene di conto le parole di Gesù, nel Santo Vangelo, dice amatevi tutti come fratelli, un'antrepigrafe che dice, nel Santo Vangelo dice, non, dice, volete bene, cioè prima di fare un'azione, immedesimatevi in voi stessi, vale a dire, se fu questa azione, famo un esame di coscienza, la facessano a me, avrà piacere, no, allora non lo famo nemmeno a lui, è una cosa spontanea, perché se si deve voler male nel mondo, la vita è un passaggio da questa terra, ma c'è un'eternità, che si è verificato, che è stato approvato anche, che questi poeri defunti, morti, se non fatti, facciani, lasci stare le dispute sul Vangelo, e sull'eternità, quindi, lasci stare tutte queste, ha capito? no, ho detto perché, no, ma il mondo davvero, se ci fosse un po' poi chi vuole se le va a sentire inchiere, io ho scritto le poesie, se nel mondo esistesse un po' di bene, e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri, e meno fene, noi condividiamo, e il mondo ne sarebbe assai più bello, ma ora siamo davanti alla corte d'assise, e lei è imputato di 16 omicidi, allora vorrei ricordarle, che lei di questo si deve occupare, non del Vangelo, dei fratelli, dei defunti, ma io, con questo, con questo, ora lei giustamente stava parlando, del Nesi ha detto, Nesi Lorenzo, vero lei stava parlando, quel signore che lei non ha noi, quindi parli di queste cose qui, di cose un po' più terrene, e che la riguarda, non ha capito, anche qui rilevo, che lei a volte capisce, a volte no, forse è il tono di voce alto, che le dà noia, le devo parlare più basso, questo me lo deve dire lei, se alzo la voce, mi sembra che lei non capisca, invece quando parlo a voce anche bassa, lei mi capisce, quindi si vede che, no, se c'è qualcosa, non devo dire, no, lei non è che non deve dire, lei può dire quello che vuole, ma ora lei mi sta parlando, mi sente ora, mi sta parlando di Cristo, della Madonna, dei defunti, del Vangelo, tutte cose bellissime, per l'amor di Dio, allora io le ricordavo, che invece lei è meglio, e poi lei deve parlare di questo, che parli di cose che attengono al processo, come stava facendo poco fa, quando parlava del Nesi Lorenzo, che non ha detto nulla di vero, che è qui, che è là, ha capito, cioè, lei deve parlare unicamente, delle cose che attengono al processo, delle accuse giuste e sbagliate, lei dice, sono tutte infamità, trucchi contro di lei, però è di questo che deve parlare, non di Vagli, per favore, non la posso tenere qui fino a stasera, ho detto tutto io, c'è un particolare, come quella pistola, lei parli di cose specifiche, per esempio, il Nesi Lorenzo ha detto assolutamente il falso, questo, lo ha spiegato alla maniera sua, ma lo ha spiegato, ecco, continui a parlare, se vuole, di questo tipo di cose, sì, c'è questo, un altro particolare, di che stavano e mi arrestarono, mi portarono la macchina a casa, e i carabinieri, perché mi arrestarono a fare la spesa a San Cassano, e c'era dentro, il cruscotto, una pistoluccia giocattolo, la 380 Mar Camari, che è la Mar, mi ricordo sempre, mi fecero il verbale, ebbe a passare un processo, Allora, quando mi domandò, dice il Presidente, dice, ha nulla da dire, come se non ha nulla da dire, per la prima cosa, Dio, non è mia, è dei bambini, dove andavo a lavorare, dai padroni, di Afro, Gazziero, hanno 12 anni, uno 13 anni, e giocano agli indiani, e tirano alle mosche, e li cascò dentro, perché gli brontolai, ora mi sbucciata nella macchina, tirano qui il braccio, e li cascò giù, e io arrivò a casa, la vedi, la presi, la buttano in cruscotto, e la vesti lì, Dio, quando devo lavorare, gliene riporto, questi bambini, insomma, fecero questo verbale, e Dio, se credete, ma dice, tappo verde, tappo rosso, mi ricordo, mi dicono, ma è che vuole, o me ne intendo, via, sono giocattoli, so che ci mettiano, questi nastrini, faceva pipipipi, allora, disse, e dice, ma, allora, chiamò, no, il maresciallo gli aveva fatto il verbale, dice, ma questo si tratta di un giocattolo, dice, eh, è un giocattolo, ma non è il tappo rosso, il tappo verde, il tappo verde, insomma, fa stato processo, dice, poi, ebbac, ah, perché mi disse, dice, se la crede, sia di un'arma pericolosa, questo giocattolo, con voi il perito palistico, venga, poi la va a pagare, la va a pagare io, e ha sentito il perito palistico, fece la ferizia, dice, ma che si tratta di un giocattolo, da bambini, dice, allora, e, dice, si è resa, ha il luogo di provenienza, disse, e ancora, ha gli oggetti sequestrati, mi mandano la cartolina, per andare a ritirarla, io dici, la la butti via, non ci hanno detto mia, non so se l'hanno accorato, poi, venne questo afro gazziero, lo disse, sì, era dei miei bambini, non so se la si ricorda, perché so, anche lì, dice, oh, abbiamo visto i passani, dice, con un braccio fasciato, una pistola a mano, se hai avuto una pistola, io, in casa mia, e Dio, mi bruci nell'inferno, io non ho mai avuto, né bracci fasciati, il resto, e si hanno detto giù a Firenze, e mi fescono racci da capa piedi, anche all'ugna dei piedi, dove c'avevo rotture, o sbucciature, o cicatrici, e si vede, io, minudai, e fesce tutta la, 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 la racci, da capa fondo, io non ho mai avuto, né, né rotture, né fasciature, noi, vittadini, figuriamoci, anche se si stia un dito, e si bagnano il vino, oppure, né, 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 l'alcol, e non si faccia nemmeno, guarisce da solo, è un po' un dolensì. E questo dice, io l'ho vista a San Casciano, al Camposanto, quello ho visto la pistola a mano, ho visto bastanti non hanno combinati, non hanno inventati di queste infamità, ragazzi. Io ho a girare la pistola a mano a San Casciano e compagnia bella, quello l'ho visto sotto sopra, l'ho visto là, l'ho visto là, l'ho rimasto attaccato. Sono tutti, gli hanno preso tutta questa gente, non so chi è, non so chi mi ha male, io non so nulla, perché come può sapere? Insomma, gli hanno preso e gli hanno fatto dire tutte queste infamità. E allora, anche lì, una frottola di chiede dell'altro mondo. Io vovo a girare, tornavo dopo gli esciori, un disgraziato, gli esciori di lavoro, faccio lo straordinario, io per guadagnare cento franchi, io tenuo di conto di centesimino, perché mi poro abbo, mi diceva, ma mi insegnava. Vedi, fringuello, mi chiamava fringuello perché è fischiettao ed ho il canto di stuccelletti che diano queste macchie. Fringuello, se te tu guadagni due lire, spendine una, un'altra, lasciala per quando è fiove. E io dice, come quando è fiove? Sì, perché quando è fiove, noi non si lavora, ma mangiare ne ha a mangiare lo stesso. Allora tu c'hai la lira che ti ha risparmiato, tu mangi lo stesso. E io ho sempre cercato di fare, insomma, l'interesse, di fare tutto, e lui mi diceva, mi poro abbo con animo perché c'era un sant'uomo, poverino lui, e ci dà dei consigli, dei consigli buoni. Porca miseria, io non so capire tutti questi frarandoni, ragazzi. Cosa doveva fare un disgraziato la ore, dieci ore al giorno, che tu torna a casa stanco, morto? Dice Giandea, l'ho vista girare, l'ho visto qua, l'ho visto là, questi villiacchi. Ma perché l'hanno con me? Perché non dicano la verità? Come uno fa ad andare a girare? E io veniva, le coppiette, Giandea dice, gianne coraggio a dire ai pacciani Giandea a vedere le coppiette. Io sono un uomo perfetto, come tutti gli altri, è giusto, e ne do dimostrazione, quello che uno vuole. Allora io avrei andato a vedere i chefagliati, io non so né un pazzo né un malato, quello che facevano loro lo facevano a casa io. Poi inoltre, se ha io piacere, come dicano loro, ad andare a guardare le coppiette e compagnia bella, a me le mi venivano sotto la finestra, come infatti trovano un biglietto, ho scritto coppia. Perché? Ora ti spiego. Ero io dal salotto, c'ho il garage, c'ho un vialetto, insomma un cortiletto, c'è il divieto di sosta, pagavo io un cartello per tenerlo che non ci mettesse a macchina. E la notte fermano la macchina lì, c'è un viale morto, insomma, e facevano suomodi. E io non volevo, perché c'avevo queste figliole giovane, eravano scandalo, perché gli avevano il lumicino, si avevano tutte le forcherie, sti su dicioni, insomma, ragazzi, si è fatta anche noi, ma lì andate in un posto non dove, e allora io presi un caffino d'acqua dalla rabbia e ne tirassopra al tetto di questa macchina. Questo che gli era dentro, un tangano, un ragazzaccio, conneforra, me lo disse di tutti i colori. Allora io, e gli dissi le mie ragioni, e poi gli presi il numero di targa. Ora, Dio, con questo numero di targa, se ci ritorna, e lo fu cercare, perché con la targa, e si fa presto a vedere chi è, chi non è, compagnia bella. Ecco, e allora presi un biglietto, un foglio del giornale, un mi ricordo, lì, che dà sulla tavola, e scrissi coppia, matriola totte, di questa macchina, gli presi il numero di matriola. Anche lì, se io ho piacere di guardare quello che facevano loro, un gli mandavo via, e gli scendeva a girare. Mi erano sotto e gli mandavo via sotto la finestra io, ragazzi. Ma quello è che fa quelle cose lì di un pazzo, di uno poverino malato. Dopo aver fatto 12 ore di giorno di lavoro, io, 12 ore, 11 ore, secondo, io facevo lo straordinario, e me lo pagavano più, lo straordinario. Arrivavo a casa, mi mettevo lì, scenao la mia moglie e le mie figliole, mi mettevo lì a vedere un po' la televisione, avevo un bicchiere di vino, a volte mi addormentavo sul piatto della minestra dalla stanchezza. E si andò a letto. A me in paese non mi hanno mai visto girare, perché io stavo sempre a casa mia. E perché andando in quei barri là, quello che si teme, lo fuma, quello, insomma, le figano. E invece io stavo a casa mia, andando a bere un bicchiere di vino, non andavo né al cinema, né a ballare, né a giocare, nulla. Alche volte andavo a fare qualche partita all'Aquila, al Circolo, insomma, a fare il mezzo litro con gli amici. Ma poi a San Cacciano, a volte, si andava in mercato, si trovava due o tre amici, ci veniva, si fa i bicchiere, andiamo e andavo. Poi ritornava a casa, perché io c'avevo il lavoro. Perché oltre il lavoro io c'avevo due orti, che erano grandi, quanto è tutta questa aula, e ci levava un monte di roba. E io ero sempre, dopo lavoro mio, che era quello. Che era sempre andato a sistemare gli orti là, e tutti lo possano dire. C'è tante cose nel mondo. Dio e buon ragazzi, c'è quelli sempre, e mettano bastoni tra le rotte, e ti odiano male, gli riacchi. Io non so il perché, ma perché si deve esistere queste cose nel mondo? Ho tre o quattro, ho disgraziato, ho quattro ammalato, ho avuto un infarto, l'angina pertoresse, mi brocca la circolazione, quando camminavo un po', mi figli il dolore, e mi porto tutte le cicerotte, mi tocca mettermi il nitrodur, che è quello per riattivare la circolazione. Figlio il calvasì, quando figli il dolore, e figlio il coso, mi chiamano il persantino 75, che di lì ho il sangue nelle oronari. E c'ho un po' il palagola, un po' tetti di operarlo ogni tanto, e mi danno, e ho una faccia di sciacqui, hanno detto a pisa per operarmelo, ma gli ho attaccato alle corde vocali, e mi disse, io ne ho opero di sì, professore, però sotto la sua responsabilità. Dice, gli è brutto, 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 gli è attaccato alle orde vocali, e al palato, dice, c'è da rimanere senza voce. Allora disse, io ne ho opero sotto la sua responsabilità, c'è tanti, gli hanno rimasti senza voce, l'abbè l'ha detto tutto, arrivederla, presi i pensi via, non muoverò più nulla. E ce l'ho ancora. Ogni tanto mi docca fare gli sciacchi, mi docca fare. Un disgraziato di settant'anni, ho settant'anni ora, dopo aver lavorato, io c'è undici ore al giorno, un tre o quattro malattie, dice, vanno a girare. Ma ragazzi, se c'è un Dio, farà le cose giuste lui nel mondo. E questi che fanno il male, io prego notte e giorno, che a questo ha fatto il male, che un gli dia pace per la vita, e che Dio lo faccia bruciare nell'inferno, e che piaccia a Dio lo troino per finire questa cosa. Io glielo ho detto a questa fuori a gente. È un concetto che già sappiamo. Continui, via. Vediamo. Parliamo di altre cose. Se vuoi parlare, Presidente. Siamo venuti a fare domande. Io non gliele posso fare, ma è certo che tutte queste tiritere... No, no, se c'è qualcosa... No, io glielo ho già detto. Parli, ma non divaghi, capito? Non parli di cose che tutto sommato non c'è. Prima ha parlato dell'appunto coppia, e questa è una cosa che c'è. Sì, sì. Su quello che Dio potrà fare... E ho fatto questo biglietto per ricordarmi, ma che va... E avrei da consegnare io alla signoria vostra. C'è una lettera di questo... Una lettera degli appunti che ho fatto io su questo fatto, questi fatti. E una lettera che diceva di fare queste... Come si chiama? Di fare queste indagini così così da quest'armaiolo. Anche qui, con la roba sua, la fotografia, il contatto d'artisto della macchina dell'82, il calzatore di cioci... Ah, già, giusto, ecco. Tutti... Si può vedere questa roba o è... Allora la vorrei vedere prima, grazie. Grazie. Questo è, signor Presidente, lo ha avuto ora, e la partecipazione di un matrimonio della Rosanna Zanotti del 14 settembre 85. Sì, di quella scelta poverina, a Santa Teatro Ande, quella di cui lui ha parlato prima. Sì, sì. Poi dopo ce l'ha dato. Sì. Appunto, perché il famoso blocco, sì, che questo blocco che trovai in questa nettezza, con il setto pannato, ce n'era diversi... Dove lo trovò? Scusi, non ho capito. Il blocco tedesco, con scritto brucche, sbrucche, io non me ne intendo, lo trovai nell'80 io, e ce n'era diversi di questi blocchi. fra le quali, guardi, l'hanno trovato loro, io... Dove ha detto che lo trovò? Scusi, perché non avevo capito. Dove lo trovò? Prima l'ha detto, ma non ho capito. Questo blocco tedesco, con scritto skurche, strucche, insomma, come c'è scritto, che io lo trovai nell'80, e ci ho annotato gli occhiali, gli occhiali, e venne a testimoniare questo ottico, che dice, no, non glielo ho venduti io. Guardi, chi c'è? Non ho capito, perdoni, c'è la sua custodia. Non ho capito prima, non ho sentito. Dove lo ha trovato? Ah, nella Biscaria, sotto Monte, perché io compri la casa, a Mercatale, ma stai ancora a Monte Firidolfi, e venivo a ripararla, a fare lavori lassù. Allora passavo da questa Biscaria, perché ci feci mezza casa, con questa roba che trovavo, lavandini, pianelle, ambrosette, mattoni, tegole, tutte le tegole, che sono in casa mia, ai numero 30 avanzate, dietro il muro, ne sono tutte tegole, e ne trovai nella nettezza, perché? Facciano tutti i nuovi, buttavano via la roba, insomma, vecchia. Lavandini ce n'è tre o quattro su, e io non ho messo uno fuori, uno in casa, due sono di scorta, dietro lì capanno. Lavandini, che sono a due pozzetti, con le sue cannelle, erano tutti sporchi, insomma, pieni di arcina, bianco, ma una volta ripuliti, ritornano nuovi. E io, per risparmiare qualche cosa, l'ambrogette, rimpianti tutto in mio garage, le sono tutte, quella roba, e trova lì, in questa nettezza. La mia moglie, poverina, dice, un po' stanno, non si è lei, poverina, che vuoi che la sappia, non sa nulla. E io ho trovato tutta lì, questa roba. E come infatti, le avanzate, le ancora fuori, in questo orto, c'è un docente, passa a tegole, c'è l'ambrogette, e c'è questi lavandini, due avanzati, che mansono, dopo egli emessi, e c'è un monte, pianelline, di queste pianelle, c'è un monte di roba, l'è ancora lì. oltre a questo, a questo, cosa, come si chiama? Albo. A questo albo, ce n'era altri, c'è un, ce n'era, uno di roba, che vendano di stoffe, di una maglieria, un altro di carsoleficio, ecco, un mi ricorda il nome, eccolo qui, c'è l'intestazione, Carsoleficio Pigalle, via G, Bartoli, San Casciano, Val di Pesa, e lì c'è il numero anche di telefono, ecco, anche questi, ce n'è un monte di odi, e ti figliavo, perché, vedi, sono fogli belli bianchi, noi si utilizzano, per scrivere, per fare appunti, no? e ti figliavo, perché è come quei blocco lì, ora c'è gli occhiali, questi occhiali, ecco, vedi, c'è questi anche, questo, c'è un malificio, insomma, ora, catalogo della produzione, cusci dienne, insomma, c'è una cosa di storia, e ce n'è un monte, e li portavo da casa. Questi occhiali, io ho annotati sopra questo, a questo blocco, dell'Ottanta, e li fece fare a San Casciano, alla, come si chiama, all'ottico di San Casciano, via Machiavelli, e c'è la sua custode, se non l'ho persa, ora, vediamo un po', se non l'ho lasciata, a cioci, mettiamo lì, dove erano, ma ce la vediamo, questa custode, porta, il nome e cognome, di questo ottico, guarda, non te l'ho messa, e c'è, c'è, faccio, e non lo, dicano dove, l'ha messa, il pericolo, la o è la, e la scena, la scena, via, via, insomma, ora, ora la trovo, non è presente, ah, ecco sì, grazie, grazie mille, e questa è un po', le dire che lui non gli ha fatti, c'è il suo nome e cognome, e c'è, via, Mattiavelli, quello, quell'ottico, tutto il risicciolato, che gli avea, che gli avea il vaiolo, e che gli ha, insomma, non so, stesse a testimoniare qui, sì, e questo, di Stan, via, Mattiavelli, eccola qua, vedi, e c'è ancora, è tutta scucia, è tutta rotta, perché gli ho passato degli anni, questo, ottico, via, Mattiavelli, ottico, Gigi, le sono lì in nome e cognome, via Mattiavelli, San Casciano, e c'era, questi, occhiali, che gli feci fare, e allora l'era nova, l'austode, ora la sei tutta rotta, e gli fece lui, ed è annotato, su questo, su questo blocco, poi c'è la domanda di caccia, poi c'è la domanda di telefono, c'è la domanda, per l'allacciamento di metano, insomma, c'è di varie annotazioni, tutte 80, 81, 80, 81, e compagnia bella, e lì le sono annotate di mio pugno, che io non ho detto nessuna farsità, ho detto tutta la verità, gli fidiavo e brocchi, appunto per annotarci le spese che facevo, e io ho fatto io anche qui un caso, ho fatto degli appunti di tutto quello, c'è questa lettera appunto della norma, ma ce n'è diverse delle lettere, comunque ce n'è una che parla di questi trucchi, che potevano fare, e l'hanno presentato, l'hanno mandato anche ai ministeri, questo l'hanno mandato, una copia alla Repubblica, una copia a Renzo Ventura, allora c'è Renzo Ventura, la guada, una copia a Pietro Fioravanti, una copia al dirigente della SAM, e una copia alla Nazione, in via Palonieri 12, e qui dicano, giusto lo chiedo io alla signoria vostra, ma lo chiesti già, lo chiesti già questo fatto, chiedo l'analisi di DNA, perché chiamai la magistratura apposta a Vennero, non è stata fatta, io lavoro per dimostrare la mia innocenza, l'impronte digitali, la cosa, l'analisi di DNA, tutto quello c'è di bisogno, e lo dice anche qui questo, questo, quest'anonimo, c'ha dei fazzoletti, intrisi di sangue, e gli ha fatto fare, dice l'analisi, DNA, e l'è in possesso suo, questo, questo, e gli hanno in possesso suo, insomma, questi, poi c'è, viene dalle unghie, non so, trovano della pelle, di questa collutazione, di questo ragazzo giovane, no, che si fu, la collutazione, gli trovano della pelle nell'unia, insomma, gli è stato fatto, questo, io voglio il DNA, mi sia fatto in presenza a voi qua, per dimostrare la mia innocenza, io sono stato a operare, a operare a Mappisa, e so il gruppo che ho io, è giusto, lo so, però dovete, dovete, vederlo voi stessi, davanti alla corte, io, le voglio presentare, se le vedete, voi, voi altri, lo permettete, questo, questo, questi due, gradirei vederli, presidente, allora, lei ci consegna tutte queste carte, alle quali ha fatto riferimento, allora, aspetta, questa è un, sì, questa è una memoria, la sua firma, questa è la lettera anonima, mi sembra che l'anonima non si può prendere, parlato, va bene comunque, questo l'ha allegato, questo, il mostro di Firenze, sono sempre la notte, dell'ottico di San Cascio, questo ce la lascia? Sì, se ce la lascia, tanto, sono anche a tasto, queste sono le fofe, la letterina che si parla, appunto, che di questa figliola, è l'otto settembre, si è andata alla festa a Cervaia, più altro per salutare questa figliola, e di questi blocchi ce n'è un'infinità, a casa mia, e gli raccattavano tutti lì, in questa nettezza, se io trovai tanta della roba, e lì ancora lì, si può neanche constatare, di persona, e quella avanzata, l'ho tutta nella casa mia lì, e questa è la ricarazione, va beh, poi consegneremo alle parti, questa documentazione, va bene, così che la possano vedere, vuole dire altro? Ma è una ricordanza, e ora più o meno, io ho spiegato tutto, e lo... Scusi Presidente, per la nuova, a questo conciso, con il Stato, che gli uomini, che era disponibile a fare, eseguire, in questo caso, anche la razza, che si viene andato, un'errore, che si viene andato, la nuova, a questo conciso, che si viene andato, Grazie a tutti